La stagione concertistica dell'Orchestra Sinfonica Rossini per la città di Pesaro. Quest'anno il titolo è sempre sinfonica, due sottotitoli, la musica attorno e Xanitalia per il territorio. La musica attorno è che guardando questa stagione, che nasce da una serie di considerazioni fatte negli anni, ci rendiamo conto che la musica davvero ci accompagna in tante occasioni. Pensiamo ai primi tre appuntamenti, Pesaro Music Awards, un momento per celebrare degli importanti artisti, il concerto di Capodanno per festeggiare insieme alla cittadinanza l'anno nuovo e il terzo appuntamento è il concerto nella giornata della memoria, quindi la musica ci permette anche di riflettere. Quindi questo è lo slogan che utilizzeremo nel 2023 per tutte le nostre attività di produzione. L'altro slogan è Xanitalia per il territorio, abbiamo oltrepassato il decennale di sponsorizzazione con Franco Signoretti, l'anno scorso appunto avevamo coniato questo slogan, abbiamo pensato di ripeterlo, perché proprio la volontà di questa azienda nel sostenere la nostra orchestra è sostenere il territorio, che significa un'orchestra, quindi i professori, il lavoro, le famiglie, eccetera, eccetera, le scuole, perché facciamo anche le mattinè e tutto quello che riguarda un po' la restituzione, come si suol dire, al territorio di questa iniziativa. La stagione si può definire un caleidoscopio, nella cui radice c'è la parola bello, perché ci sono tanti ingredienti, tutti molto belli. Non manca l'opera lirica e non manca la musica sinfonica, che è il nostro carattere prettamente orchestrale, e poi grandi voci, e poi un musical, una giornata dedicata alla memoria, il 27 gennaio, il tradizionale concerto di Capodanno, tanti direttori, sia nostri, interni, il nostro direttore artistico, il maestro Daniele Agima, il direttore per la formazione, Maurizio Borgoggelli, il direttore per l'innovazione, Roberto Molinelli, e poi alcuni artisti che abbiamo avuto già occasione di apprezzare, in occasione del Bel Canto Ritrovato, il festival nazionale che ha avuto sede a Pesaro, e nelle Marche lo scorso agosto, quindi io credo che sia una stagione da non perdere.